Oggi siamo qui in una camerana ecoica, singolarmente a fare questa challenge, dovrete fare un unboxing cercando di fare il meno rumore possibile. E' una sensazione stranissima, 180 ansi, i suoni rimangono lì, la percezione del sole è completamente diversa, mi senti completamente avvolto dal senso. Si sta in una situazione di occupantamento totale.